con i ciò cari giapponici e benvenuti voi qui nel canale sono sempre il vostro giappogamer e benvenuti con i soldi qui su within the blade per conto di questa avventura platform incredibile e che vede impegnato il nostro amico ninja Hideaki alla ricerca insomma nel salvare il suo villaggio da uno scurmale comunque sia siamo giusti esattamente la versione numero 8 di questa serie come sempre mi consiglio è quello di iscrivervi al canale di attivare la campanella allora andiamo a ricordare questo oggi in within the blade in questo nuovo appuntamento ok giapponici eccoci qui nel giappone feudale di within the blade allora abbiamo continuato questa avventura incredibile in questo platform strafichissimo vola ninja amico mio vola tocca andare avanti a mani nude ma eeeh perchè tutto quanto nero qua free kiyoshi e yasio ok dobbiamo liberare kiyoshi e yasio free the prisoners stay unnoticed don't use shurikens ahia dobbiamo rimanere nell'anonimato? vabbè presumo andare per di qua e porca la miseria ah no non è per di qua? oh cavolo no cazzarola bisogna essere molto precisi eh calla stiamo già a metà e invece vabbè ma non ho beccato allora vediamo un po' siamo dentro no qualsuna ok uno liberato bene e vediamo un po' dove gaspina andare allora no 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 di qua no ah c'è l'arcere ok prendiamo un po' di materiali si è laaa c'è quello spadino lì eh calla lo sapevo eh calla morto bene ricominciamo al checkpoint eeeh e vabbè ok evitato bene ma sentivo rumore aspettai un attimo ah c'è la chiave verde là cazzarola qualcuno è morto mi sa c'è la chiave verde vai st'acqua su cavolo no 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 non m'hai visto dai non m'hai visto vai porto via si è messo lì ma dove sta chi è la chiave verde eh sta qua su sta qua sopra presa vai col tesoretto vai con gli shuriken bombette oh vai col super tesoro vai così 1111 monete bene mi pare che a mille o tre o mille e cinque posso comprare la nuova catana che qua andare a cazzotti è un po' tosta ok direi che la prima zona è andata ok allora adesso c'è un nuovo checkpoint oh no crepato va con un nuovo checkpoint bene i soldini mi servono assolutamente dai mi hai visto vieni giù morto mamma mia vai vieni giù cala giù dai incoraggio vai 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 vieni qua ok vi sei allarmati vai col tesoro 1240 no più su va vediamo un po' eh si la c'è quello lì oh cazzo l'ho sbagliato vabbè mamma mia vai cai giù ok ok però gli altri due caspita stanno che io ho scegliato porca miseriaccia boia allora qua abbiamo finito stanno ancora più su porca miseria e vabbè vediamo un po' verso sinistra per di qua ok superati mamma mia vai così un po' di materiali va di là ci dovrebbe essere un'uscita oh vai con un altro tesoretto vai con gli shuriken ok mamma mia oh c'è un altro da liberare qua un po' di soldini vai vai amico mio quanti prigionieri ci stanno qua cazzarola sto gran maledetto quanti ne ha presi ok ok qua non la porta c'è una porta ma non non si apre chi è chi è così nooo porca miseria no porca miseria devo andare a liberare cazzarola aio no ma quanto mi ho tolto no non sta qua cazzarola sta di qua ma di qua ok va là è ok però qua uno sta lì ma si è va là ok va così liberato porto via fatto fuori 1218 e cala porca miseria allora ricominciamo questo checkpoint è tosta questa parte è tosta qui sta parte no no cazzarola ok ok bene mamma mia presi i soldi vai uno liberato uno liberato porto via va 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 tiè 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 così così quello ancora è vivo vabbè 1238 oh uno è mortacci tua no 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 che tu un dieconale ci becchio uguale pure attraverso i muri allora dobbiamo un po' l'altro sta di là passato bene ok vai così un po' di materiali un altro po' di materiali bene vediamo un po' di andare più su in alto e ok dov'è che sta dovremmo essere vicini ecco qua eccolo qua l'altro vai ti libero vai così non so quanti prigioni gli stanno cazzarola vediamo un po' ah ci sta un'uscita lì a sinistra e però pure là in alto a destra cazzarola dovrebbe andare allora vediamo un po' qua su e cazzarola però qua su in alto no mamma mia quanto ci è rimasto poco tocca andare ancora più su cazzarola ma qua ma qua un po' si può prendere niente cazzarola qua ci rimango ok checkpoint checkpoint qua verso sinistra ok ok eccone un altro saranno tutti no ancora no cazzarola ma qua c'è ah una chiave blu allora dov'è sta chiave blu ah eccola là eccola là cavolo c'è là questo presa e crepa e caccia i soldi ma non ci sta nessuna pilola blu e possiamo aprire qualcosa di shuriken questa dovrebbe essere una mina ah questa è la bomba quella lì esplosiva cioè fumogena porca la miseria vabbè guardate se non tocca ricominciare da checkpoint allora dovremmo andare più su più su di qua allora qui a sinistra oserei dire di no ok qua c'è l'arciere che non ci ha visto vai è giù di sotto vai ecco checkpoint almeno ricomincieremo da qui con quelli salvati c'è un lucchetto la verde come caspia si passa qua qua non si può andare ok aperto bene vai così crepa però però peccato che a checkpoint non si possa recuperare l'energia almeno metà l'energia lo botevano ho recuperato ok ma lì c'è qualcosa importante mi sa di no quello lo dobbiamo recuperare ho recuperato e adesso ah giù di sotto lì cazzarola sotto a destra non ho visto non ci sono passato cavolo che cazzarola è qua le due gaspe si passa eh cala lo sapevo io però almeno abbiamo recuperato dal da questo checkpoint allora dobbiamo andare a prendere qua apriamo quella chiave rossa vai giù ok morto bene direttamente ottimo eccola qua presa bene che vuoi tirare tu sei il bombarolo del zona tiè e schioppa va è schioppato no pure io cazzarola e creba e creba pure tu passiamo per di qua andiamo a prendere sta chiave rossa eccola qua yeah così porca miseria è schioppato eh ma pure noi no cazzarola ok ok e spaccati vabbè non si spaca allora dobbiamo andare a vedere la sotto che ci sta checkpoint ok un po' di soldini ci sei tu oh vai così ho idea chi dov'è Yassion è morto no uomo uomoro imai il demone donna l'hanno portato al castello dice ok torna al villaggio dovremmo decidere cosa fare dopo grandissimo ok eeeh dovremmo tornare pure nel villaggio ma da dove da qua vai così con checkpoint forse da qui si bene così bene così mamma mia mamma mia ce l'abbiamo fatta ah dobbiamo continuare dice che strano quadro così realistico che sembra guardarmi eeeh cazzarola ecco qua mortacci tua demone maledetto tiè becca di questo direbiamo un po' se i kunai gli fanno qualche cosa a questo tiè beccato in bocca le fate incazzi che mi sa non tocca dare punti di riferimento al suo bastardo e cala ci bombarda con la forza di mille braccia dove stai? stai lassù eh che caspita dove stai? stai lassù? eeeh caspiterina tiè i shuriken ne abbiamo dieci per fortuna tiè beccato 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 no niente non tocca dare punti di riferimento a sto bastardo tacci tua tacci tua sto di qua ciò ci sta ti sta marcat stretto eh possiamo mettere le mine tacci tacci tua tacci tua ma che ci abbiamo i kunai beccato no cazzarola ok beccato beccato tacci tua bastardo maledetto porca porca la miseriaccia boia siiii iata iata art lover trofeo guadagnato fatto fuori bene così bene così e usciamo per di qua mamma mia tornate al villaggio mamma mia che boss fighter ragazzi 1418 uuuh cazzarola mi sa che la catana costa 1500 non gli ha la fama vabbè vediamo un po' se possiamo craftare qualcosa ma mi sa niente no vabbè andiamo a parlare col maestro ma vediamo un po' che dice il nostro sensei dice chiasio è morto e non sappiamo cosa fare sappiamo niente loro hanno distrutto ovviamente insomma comunque hanno 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 ammazzato chiasio dobbiamo fare dobbiamo avere la nostra vendetta prendere dobbiamo creare delle bombe col fuoco ecco neko comunque ha fallito la missione ideachi dobbiamo farlo contiamo su di te dice neko dice ideachi fa attenzione gsensei insegnami qualcosa oh ecco adesso devo insegnare qualcosa blacksmith l'arma io abbiamo finito block master oppure shuriken jutsu versione 2 immunità oh possiamo passare più tempo in aria infettate bene in aria virali ok resistenza al fuoco il tai jutsu treat combo senza arma che la nostra cadana ci manca dragon dance ok di cose da sbloccare ce l'abbiamo running attack ce l'attacco in corsa mamma mia spettacolare questo gioco spettacolare ma ecco chi ho grazie per avermi salvato prego figurati e ok ragazzi allora anche questo episodio insomma di within the blade termina qui insomma abbiamo preso anche oggi un altro bel trofeo argento quindi ottimo così bene così e ok eccoci qui cari giapponici nella schermata dei titoli with the blade e allora anche questo episodio numero 8 di questa serie platform incredibile veramente stra giapponizzante ovviamente termina qui se vi è piaciuto questo episodio questo video vi invito a lasciarmi un bel like un commento e una condivisione ovviamente sono sempre graditi vi consiglio come sempre se volete seguire i miei vari social volete farlo e anche contattarmi in termini social che sono pagina facebook twitter instagram e canale telegram mi raccomando come sempre mi consiglio di iscrivervi al canale di attire la campanella e infine ricordo anche il mio blog sull'oppressa l'indirizzo giappogamer.com punto blog dal vostro giappogamer per il momento è tutto matanè e i prossimi episodi e i prossimi